...la seconda trasferta con Giacotino. Intanto è già iniziata la partita, è il Ganji che manovra bene con Stefano Frangioni, passaggio in avanti per Scudieri, Scudieri si fa a largo, prima azione pericolosa del Ganji, tiro e c'è la prima autentica parata di Conticelli. Quindi al primo minuto... Vediamo come batterà, batte bene e la balla, Sibila, il palo. Napoli se ne libera, ora crossa, rigore, calcio di rigore. No, contro storiale, si dovrebbe ripetere questo rigore, si dovrebbe ripetere, l'ambito dice no. E alla fine si tira da d'acqua e Conticelli si supera. Per esperienza i giocatori del Mazzara, Gallifuoco, Maradonna, scambio volante, è 2 a 0. Tiro di Frangioni, la barriera ribatte, guarda bene l'acqua, dentro l'area. Vino, buongiorno, gol! Prete, Scudieri ha segnato, 2 a 1. Quest'anno di ciclo l'ha voluto alla sua corte, forse per evitare un altro dispiacere. Tiro, e gol! 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 Vino, vino, buongiorno! Prete! Incredibile, signore!